buongiorno e buona domenica allora pollicione descrizione campanina per ricevere gli avvisi e se volete condividere video vi ringrazio non era aspettato questo video ma c'è una novità importante meglio che ve la dica l'inps ha ripristinato il sito per per smartphone e tablet provate a controllare vi comparirà un'icona in cui c'è scritto che ora è possibile accedere ai vostri dati attraverso il attraverso lo smartphone speriamo che duri ci hanno messo soltanto un mese e mezzo a sistemare un problema che diciamo un ingegnere di informatica appena decente avrebbe risolto in qualche ora per il resto ragazzi stanno cominciando a girare le patacche cioè bonus pasquali che non esistono anticipi di pagamenti che non ci sono le date soprattutto per i percettori rdc sono quelle canoniche 15 27 di lavorazione 13 14 ricarica 15 lavorazioni notte tra pesumo notte questa volta perché 25 festa comunque tra 25 26 ricarica il 27 non ci sono anticipi per le pensioni non ci sono cose straordinarie anche se le leggete sui quotidiani che mi sembra che ormai la qualità dell'informazione sia sotto le scarpe e devi proprio scavare per trovarla per cui state attenti ecco se ci fossero novità ci fossero veramente cambiamenti ve lo diremmo ma allo stato attuale non risulta nessun cambiamento anche perché non ci sono i presupposti per il cambiamento e come vi ho ribadito anche nel video di ieri non sperate in chissà cosa nel famoso decreto quater i sostegni quater serviranno a cambiare ancora un po la benzina tra l'altro osservazione fatta dai pentastellati non basterà per arrivare alla fine dell'anno ma probabilmente neanche per metà anno e le bollette poi abbiamo le visioni fantasiose di grisù che secondo me ha bisogno veramente di uno bravo perché le sue idee sul risparmio fanno ridere e onestamente ragazzi mi tocca dare ragione a calenda roba che sapete quanto mi è antipatico calenda quando dice che il problema non è il condizionatore ma sono le imprese se le imprese chiudono ci saranno centinaia di miei lavoratori a spasso e vagli a dire a queste persone scegli il condizionatore o la pace perché lì si tratta di scegliere tra mettere il pane e non chissà che il pane in tavola e la pace e voglio vedere come ti franco bollano l'unica cosa buona lo sapete tra qualche mese si vota e questi vanno fuori dai coglioni perché non non li si può più reggere chiudo su una cosa personale io rientro in italia martedì avrei dovuto arrivare la mattina noi abbiamo trovato un buco purtroppo scendo la sera tardi adesso devo anche avvisare la lidia perché devo passare da lei prima di arrivare a casa e dopo a passarci un mercoledì o il giovedì niente per il resto se va tutto bene mercoledì facciamo una live col mio faccione così ricordatevi di prendere gli antiemetici e e al spero che almeno questa volta qualcuno entrerà ecco lo chiedo per favore perché essere lì a parlare con quattro persone io ve l'ho sempre detto ve lo ripeto il fatto che faccia delle live per la cristiana non implica il fatto che non vi risponda se alcune domande le facevate mentre live di aver risposto subito invece di farvi aspettare ore boh penso di avervi detto tutto ci sono i pagamenti della spi in corso alcuni già fatti altri che arriveranno il 13 altre cose in pagamento non ci sono e lì dovete rivolgervi al servizio questo funziona abbastanza bene che ha dedicato l'inps per queste cose niente vediamo vediamo cosa partorisce il governo dei peggiori vi auguro una buona giornata una serena domenica delle palme ciao a tutti